Questo è un orecchio finto, non chiedetemi perché io ce l'abbia e queste sono le nuovissime cuffie Sony super rivoluzionarie Adesso cerchiamo di capire un po' come funziona il tutto Salve, oggi parliamo di queste cuffie appena arrivate, appena uscite, ce le ho in anteprima esclusivissima Grazie Sony Si tratta delle LinkBuds, queste cuffiettine qua E' sicuramente interessante il concetto che c'è alla base Perché fondamentalmente ormai viviamo in un mondo dove in qualche modo siamo sempre connessi E queste cuffiette sono studiate appositamente per non essere delle cuffiette che metto solamente per ascoltare Ma delle cuffiette che tengo tutto il tempo che voglio E quando devi ascoltare qualcosa, quando devi ascoltare un messaggio, quando devi fare una chiamata Hai già un dispositivo nell'orecchio senza che tu neanche te ne accorga Fondamentalmente piano piano stiamo già diventando dei cyborg E non so se sia un bene o un male, fatto sta che andiamo a vedere queste cuffiettine Qua si tira fuori Un cavetto USB-C Istruzioni e garanzie varie Ah qua ci sono i vari cosi in silicone che non sono proprio dei gommini Sono tantissimi Ok E qua ci sono le cuffie vere e proprie Molto interessante il fatto che tutto sia fatto in carta, sia tutto plastic free Belle Sono fatte in plastica, in ABS, riciclato interamente Abbiamo un pulsantino qua, una luce, il logo Sony Da questa parte invece c'è un altro pulsante e la presa USB-C Secondo me se noi schiacciamo questo pulsante si dovrebbe aprire Wow Luce arancione, immagino che non abbiano troppa carica E quindi queste qua sono le nostre cuffiettine Con questa forma decisamente particolare Guardate che roba con qua sostanzialmente dove c'è tutta la tecnologia E questo che è l'anello con il trasduttore Dietro invece ci sono i pin della ricarica e il sensore di prossimità E vi dirò il fatto che abbiano una forma completamente diversa dal solito Mi piace, cioè finalmente qualcosa di nuovo Perché diciamocelo in questo mercato Apple ha fatto le Airpods e tutti hanno provato a copiare Poi c'è tutto il settore delle in-ear col gommino Che hanno fatto tutti, tutte, tutte, tutte uguali E quindi è molto figo che ci sia proprio un nuovo concetto di cuffia Idealmente appunto questo è l'anello che vibrando produce il suono E il fatto che sia bucato dentro permette anche a cuffia inserita Sostanzialmente di avere sempre il contatto con l'esterno Come diamine si mettono quindi? Così? Cos'è? Ah sto mettendo la destra e la sinistra Ecco perché non entrava È affascinante perché non danno fastidio Senti solo il supporto che si appoggia sostanzialmente al padiglione Non all'interno dell'orecchio E mi sembra che già il gommino che c'è dentro Ovvero quello medio Per le mie orecchie funziona abbastanza Poi proverò a capire anche gli altri Quindi eccole qua Link Buds Tra l'altro finalmente brava Sony Che ha dato un nome decente a un suo prodotto Perché di solito sono semplici sigle lunghissime Le SRSX Anche queste in realtà hanno il loro nome Che sono WFL900 Però poi Link Buds è effettivamente il nome Ci voleva tanto? Comunque le registriamo Me le fate mettere vicino alla cuffia Uh siamo già connessi Questa è la classica applicazione Sony Abbiamo le indicazioni delle batterie E poi si possono andare volendo a regolare un sacco di impostazioni del suono e quant'altro Boh proviamo una canzone a caso? La cosa bella è che io in questo momento sento perfettamente tutto quello che succede Anche se sto comunque indossando le cuffie Affascinante Poi con due tap ho una gesture Ok E l'altra è con tre tap Ok allora I bassi sono praticamente inesistenti Ma scusa Basta non funziona più Vabbè le provo per qualche giorno E poi vi aggiorno Per correre Sono veramente interessanti Perché si sente bene la musica Ma ovviamente senti anche quello che c'è attorno Avrei preferito un volume leggermente più alto però Con l'anello trasduttore Penso sia proprio un limite tecnico Altra cosa non da poco Io spesso metto il cappuccio no? E spessissimo Le airpods mi si incastrano e cadono O comunque anche altre cuffiette Queste invece Posso far su giù la perfezione E anche quando sul cappuccio Non danno fastidio capito? Cosa non da poco Adesso sto zitto e corro però Comunque assurdo io per dire Adesso ce le ho addosso E non mi ero neanche reso conto Che le avevo tenute addosso Sono talmente tanto comode leggere Che una volta che ti sei abituato È come non averle Tra l'altro in macchina Interessantissime Proprio perché Essendo bucate Si sente sempre Tutto ciò che succede all'esterno E quindi anche da usare come auricolari Sono un'ottima soluzione Soprattutto se avete una macchina scrausa Tipo la mia Devo dire che veramente Usandole tutto il giorno Non ho mai avuto un paio di cuffie così comodo Tutto molto interessante Allora Allora Dopo una settimana di utilizzo circa Sono un pochettino combattuto su di loro Perché da una parte Le sto letteralmente amando Dall'altra Ve lo dico proprio con la massima sincerità Da grande utilizzatore dell'AirPods Pro Anche se loro sono un concetto totalmente diverso Non so Se poi alla fine della fiera Andranno a sostituire Le mie cuffie quotidiane Mi fa veramente comunque impazzire la forma Mi fa impazzire che appunto Con i loro 4.1 grammi Se le tieni per un po' Poi ti dimentichi di averle addosso È una roba assurda E il fatto che pur indossandole da spente Si ha il contatto con l'esterno Perché praticamente il suono passa senza problemi È veramente comodo Sapete che le cuffie con riduzione del rumore Hanno anche la modalità trasparenza Che in alcuni casi come l'AirPods Pro Funziona benissimo Ma non è comunque la stessa cosa Senza metti, togli, metti, togli Attiva la trasparenza Togli questo, metti questo Quindi nella vita di tutti i giorni Ottimo Per fare sport Tanta roba Soprattutto sport Nei quali anche per ragioni di sicurezza Un minimo di collegamento con l'esterno Andrebbe tenuto La cosa bella è che loro sono anche resistenti all'acqua Ipx4 Quindi sostanzialmente agli schizzi Sudore, pioggia e quant'altro Non ci potete fare il bagno in sostanza E mi ha stupito non poco la batteria Sony dichiara 5,5 ore Secondo me sono un po' meno Ma di utilizzo totale Quindi considerando che spesso si tengono comunque addosso Spente E quindi non dico che si possano tranquillamente indossare tutta la giornata Però quasi Con il case di ricarica si fanno più o meno tre ricariche Tra l'altro ricaricando semplicemente 10 minuti nel case di ricarica Le cuffie hanno un'ora di utilizzo Insomma sotto questo punto di vista Nessun problema Altra cosa interessante per quanto mi riguarda Loro sono molto igieniche Perché rispetto alle cuffie con i gommini Sostanzialmente non si va nemmeno a entrare nell'interno dell'orecchio E questo pezzo di silicone che si va a incastrare Sotto la parte superiore dell'orecchio Per quanto mi riguarda è geniale Cosa che non mi è piaciuta minimamente Questa roba qua Uscito dalla scatola Perfetto Super Però è proprio scomodo Perché c'è il pulsantino da premere Ok Se ho le dita dietro non si apre Perché cioè nel senso Per carità è molto scenico È molto figo Però dannazione lo tiro fuori dalla tasca E tac tac No devo mettermi così e fare Wow Non lo so Cioè non voglio fare il solito noioso Però è semplicissimo Tac E tac Senza pulsanti Senza molle C'è da dire però che è piccolino Comodo Leggerissimo E poi appunto essendo che loro le metti E te le dimentichi Fortunatamente ti dimentichi anche il case Detto questo parliamo di cose serie Come suonano Non c'è ovviamente da aspettarsi chissà che cosa A volume medio si sente più o meno tutto bene A volume massimo Soprattutto con roba con tanti bassi Fanno un po' di fatica Volume massimo che è alto Ma non così alto Nel senso che già per dire in metropolitana Con un bel po' di casino Lì sì che si sente la mancanza di un isolamento Ma non sono studiate per quello Tenendoli invece a un volume medio Veramente ottimo Soprattutto per ascoltare vocali Fare chiamate Guardare che ne so Storie su Instagram E secondo me questa è proprio la loro chiave Soprattutto nell'ottica di tenerle sempre connesse al telefono Invece che ogni volta ascoltare i messaggi vocali così Tra l'altro c'è una funzione molto carina Che si può attivare dall'applicazione Sostanzialmente quando parli Loro stoppano la riproduzione Può essere utile nella realtà dei fatti Per quanto mi riguarda È abbastanza fastidiosa Perché toglie il grosso pregio di queste cuffie Ovvero il poter parlare E banalmente sentire la propria voce Oltre a quella degli altri Mentre si sta comunque riproducendo qualcosa Poi dall'applicazione si possono regolare tutti i valori del caso Ma insomma Non penso su un prodotto del genere L'equalizzatore abbia un gran senso E nulla quindi nel complesso Tanta roba Sia per chi non ha ancora trovato un paio di cuffie comodo E che stanno nell'orecchio Queste potrebbero essere un'ottima soluzione Sia per chi vuole delle cuffie Con cui essere sempre connesso Con il mondo Il concetto Come ho detto mille volte in questo video Mi piace tantissimo E arriveremo sempre di più Verso un mondo in cui avremo Delle cuffiette E delle cose piantate negli occhi Nel cervello Chissà dove Sempre connesse con chissà quale dispositivo Alla fine siamo già degli androidi Se considerate che abbiamo sempre questi in mano E quindi ci vediamo Quando sarò costretto a tornare indietro nel tempo Per uccidere lo yaki del passato Che stava testando queste cuffie Ciao 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 Grazie a tutti.